Graziano Nicosia, amministratore di cantina Nicosia a Trecastagni. Siamo qui a Montegorna. Prima di tutto, raccontaci che cos'è Montegorna per voi. Allora, Montegorna è il nostro vigneto del cuore per diversi motivi. Uno perché è quello che si trova più vicino alla nostra sede, quindi siamo a Trecastagni, a 700 metri sul livello del mare. Ha la particolarità di essere un conetto vulcanico, quindi oramai spento da più di 2000 anni e i vigneti si poggiano sulle collate laviche di 2000 anni fa. Quindi siamo a 700 metri, vigneto vista mare, quindi siamo in esposizione sud-est. Sono vigneti di circa 20 anni con una piccola parte di circa un ettaro, vigneti di 60 anni.